Anche quest'anno con l'arrivo della stagione estiva il Ministero della Salute ha lanciato la campagna Piano Caldo 2023 che si focalizza su una corretta nutrizione e prevenire così gli effetti nefasti del caldo. Per dare qualche consiglio in merito oggi il nostro ospite è la biologa nutrizionista Anna Paola Scioletti. Con il caldo arrivato poi in questo periodo in modo decisamente invadente dopo una stagione primaverile che si è dilungata parecchio la cosa più probabile è sempre una questione legata al problema di disidratazione o problematiche legate proprio ai livelli pressori. Infatti la cosa più importante sarebbe cercare di concentrarsi proprio da questo punto di vista. Per fortuna dal punto di vista nutrizionale quelli che sono gli alimenti che si trovano in questa stagione ci aiutano per cui bisogna cercare di aumentare moltissimo quello che è il consumo di frutta, verdura soprattutto di stagione perché sono ricchissimi non solo di acqua ma anche di sali minerali perché proprio i sali minerali sono quelli che gestiscono il livello di idratazione all'interno del nostro corpo. Il cercare di andare ad agire dal punto di vista nutrizionale proprio su questo focus ci permette di andare a contrastare quelle che possono essere le problematiche maggiormente legate all'arrivo del caldo in modo proprio proprio aggressivo come sta avvenendo in questo periodo. Ecco dottoressa diamo anche qualche consiglio per evitare di esporre i più piccoli al rischio poi di tornare sui banchi di scuola con qualche chilo di troppo. Il problema è sempre legato alla stagione estiva per lo più al caldo e anche un po' alla libertà dal punto di vista degli orari. I miei consigli sono sempre legati a cercare di dare anche ai più piccoli quelli che sono dei ritmi. Ovviamente nel periodo scolastico loro sono maggiormente legati a dei ritmi imposti dalle abitudini scolastiche per cui i pasti sono a dei tempi ben determinati. Ma anche in estate se si riuscisse a dare questa regola ovviamente con molta più tranquillità si riuscirebbe a fornire un apporto nutrizionale corretto e regolare. Per i ragazzi resta anche per loro un consiglio per quanto riguarda il consumo di frutta e verdura. Non solo perché sono ricche di acqua anche i ragazzi come noi se non maggiormente vanno incontro a rischio di disidratazione ma anche per i sali minerali e per le fibre. Purtroppo si tende con il caldo ad andare verso alimenti freschi, poco proteici e estremamente dissetanti come gelati, ghiaccioli, frutte molto molto fredde. Il mio consiglio è sempre di abbinare quello che può essere un apporto dal punto di vista proteico come formaggi freschi, come yogurt che possono anche permettere di modulare quello che è l'apporto calorico. Per quanto riguarda frutta e verdura quelle di stagione sono le migliori. I ragazzi ovviamente sono maggiormente facilitati però cercare anche di spingere l'alimentazione dei più piccoli verso l'utilizzo soprattutto delle verdure perché ovviamente dal punto di vista un po' della gestione di questo alimento ovviamente i ragazzi sono quelli un po' meno invogliati a mangiarne magari andando a prediligere quelle che sono le verdure crude maggiormente apprezzabili e anche più dolci per i loro gusti. Grazie, grazie alla dottoressa Anna Paola Scioletti, vi auguro buon proseguimento su Radio Azzurra.